Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi, buona Pasqua, anzi non è ancora il sabato, non è ancora Pasqua, domani è Pasqua, però insomma ci anticipiamo con la buona Pasqua, noi come sapete facciamo Quarta Repubblica anche lunedì, perciò non ci possiamo muovere da casa, nonostante il quotidiano nazionale che dice in un titolo oggi sui giornali della Nazione, il giorno e il resto del Carlino, che in realtà l'esodo è partito, questo è vero fino a un certo punto perché sapete bene che le restrizioni ci sono e sono belle grosse. Ci sono un po' di notizie oggi sui giornali e io direi di partire, c'è un bellissimo tema che affronta anche Sallusti, però partire sulla questione dei vaccini che sono ritornati in auge oggi per un'intervista che ha fatto il generale Figliuolo al Corriere della Sera a Goffredo Buccini e per un titolo del messaggero che è piuttosto significativo, vaccini obiettivo a rischio. Sono i due lati della medaglia, intanto partirei con Figliuolo e consiglierei agli amici che si occupano dell'ufficio stampa di Figliuolo di spiegare al generale che la parola declinare, insomma non è che si può usare più di 4-5 volte in un testo, perché se tu declini tutto, declini quello, declini quell'altro, decliniamo quell'altro eccetera, insomma oltre a una coniugazione latina riesci anche a fare una ripetizione che è un po' inusuale per la lingua italiana. Ma queste sono balle. La vera cosa che ci ha detto Figliuolo oggi è che, secondo il Corriere della Sera, in aprile ci giochiamo tutto e ogni giorno avremo 500 mila dosi. Per ora ieri abbiamo avuto meno dosi rispetto al record di 281 mila. In realtà, Figliuolo dice alcune cose. L'unica cosa, secondo me, piuttosto nuova e interessante è il fatto che ci sono 420 siti privati disponibili a vaccinare, ma evidentemente, proprio per la logica su cui Figliuolo, Curcio e Draghi stanno muovendosi, i privati potranno vaccinare soltanto da fine maggio. Perché potranno vaccinare soltanto da fine maggio? Perché ora tutte le dosi che arrivano devono andare dai più vecchi, i fragili, alle altre categorie. Se ora ci mettessimo a dare alle aziende, ovviamente avremo delle altre categorie privilegiate, tipo la Toscana, che avrebbe, questo lo dico io, che avrebbe il vaccino nonostante non sia una di quelle categorie in pericolo. Cioè, se tanto critichiamo i magistrati che volevano saltare la fila, immaginate voi se lo facciamo per le aziende. Non perché io sia contrario a questa idea, ma perché la cosa folle è quella di aver evitato, l'ISPI dice, abbiamo aumentato di 8000 morti, il fatto di aver continuato a vaccinare persone che non siano ultraottantenni. Bene, il primo piano vaccinale, racconta Figliuolo, molto interessante, dove si parlava di categorie essenziali poco declinate. E ci ritroviamo sul poco declinate. Cioè, sostanzialmente, quello che Figliuolo dice in maniera esplicita, nel gergo militaresco, diciamo un po' burocratico militaresco, di Figliuolo, è che nel primo piano vaccinale, dello stesso Speranza, che non ha nessuna remora a cuirci a casa, come dice ieri in un'intervista, insomma, le categorie essenziali erano poco declinate. E poi continua Figliuolo, e ringrazio oggi il ministro Speranza, di aver declinato le categorie fragili. Beh, insomma, che tutta l'attività... Io capisco che Figliuolo debba tenere tutti, pur sempre un servitore dello Stato, ed è un generale degli Alpini. Però, insomma, certo che volete che dica di Speranza. Spero che dica quello, io penso, quello che poi dirà, e lo sentiremo dopo, Saldini. Cioè, di avere davanti a sé un muro, un muro rosso! Certo, questo non lo può dire Figliuolo, che però dice esplicitamente che il primo piano vaccinale, dove si parlava di categorie essenziali poco declinate, e quindi il tema per il quale le regioni hanno vaccinato anche i cugini trentenni, non è tanto e non solo perché hanno fatto i furbetti, ma perché il piano vaccinale glielo permetteva. Chiaro il concetto? Questo lo dice Figliuolo, né più né meno. Vedremo se arriveremo a 500.000 dosi, perché intanto c'è chi è un po' più scettico. I vaccini, obiettivo al rischio, estate, senza turisti tra i stranieri, è il titolo tranchant del messaggero. Il rapporto riservato dell'Unione Europea dice che a giugno l'Italia sarà immunizzata solo al 57%. Devo dire che, visto tutte le promesse che sono date a farsi fottere prima di tutti, di tutti, francamente, l'idea che noi si sia vaccinati al 57% quest'estate mi sembra piuttosto credibile, anche se io non me lo auguro. Speriamo che questo non sia vero e che saremo al 70-80%, come chiede il governo. Ricolfi conferma proprio sul messaggero i dati e dice anche oggi, e è molto semplice perché poi Ricolfi è secco, anche oggi con 11 milioni di dosi somministrate, 11 milioni di dosi somministrati, quasi metà degli over 75, cioè 7 milioni, non è ancora vaccinato. Avete capito? E non facciamo i fenomeni. Cioè questo piano vaccinale è stato fatto da dei cerebro lesi, cerebro lesi, e solo uno su cinque ha ricevuto le dosi, dice Ricolfi, che si mostra piuttosto scettico sul fatto che arriveremo a morti zero, per il semplice motivo che, siccome non riusciamo a vaccinare tutti, siccome non faremo l'immunità di greggio, almeno vacciniamo quelli che muoiono e i più fragili, neanche quello riusciamo a fare. Il domani fa un gioco che avrebbero potuto fare, alza il telefono e chiama agli uffici stampa delle regioni e scopre cosa è successo, per esempio, in Toscana. Il 20 marzo, su 6.428 vaccini fatti in Toscana, sapete quanti sugli anziani? 29. 29 su 6.428! Allora tu dici, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Il 21 e il 22 marzo, sui vaccini fatti in Toscana agli over 80, sapete quanti? Zero! Zero! Il 21 e il 22 marzo. Beh, ragazzi, diciamo che ci sono i nomi e cognomi di questa roba qua. Nel frattempo c'è un altro tema molto bello, che è occhio ai delatori. Ogni tanto il giornale si ricorda di essere un giornale liberale, e il Sallusti, devo dire, che fa un fondo che io sottoscrivo al 100%, parlando del caso Marattin, del caso Dybala, del caso McCennie, che non giocheranno per punizione questo weekend. Cioè, per evitare i delatori, gli italiani delatori che denunciano gli assembramenti. In realtà, e questa è una cosa che mi è venuta in mente ieri parlando con un mio amico, e oggi, devo dire, lo leggo sul tempo, lo leggo sul tempo, sul tempo, che cosa leggiamo? Che un tempo c'era l'invidia sociale nei confronti dei ricchi. Oggi c'è l'invidia sociale nei confronti di quelli che possono essere liberi. Non hai la mascherina? Ti denuncio. Sei a casa con due persone? Ti denuncio. Se c'è il giardino e ti stai vedendo con tre amiche che ballano la salsa? Ti denuncio. Un tempo, come diceva Montanelli, se un italiano vede una bella macchina, invece di complementarsi con il proprietario, gli eriga le gomme, gli squarcia le gomme. Oggi, invece di invidiare sanamente chi può avere un elemento di libertà, beh, ti denunciano. E questa cosa la racconta anche con una citazione di Solinas Sallusti, dicendo che questa militarizzazione della vita pubblica in realtà è quello che può permettere di instaurarsi di un vero e proprio regime. Esageriamo? No, non esageriamo, perché quando ti mandano le foto, ne parleremo l'unità Quarta Repubblica, per i tuoi parti, si parte da removide salvagge, si parte dalla criminalizzazione di chi esce, e si va a finire nelle case delle persone in cui i poliziotti non possono entrare, neanche per una violenza domestica. Pensate un po' voi, se non beccate, se non per un pericolo di vita, però cercano di entrare perché vi state vedendo i vostri figli con altre tre persone. Io la trovo una cosa dell'altro mondo, invidia sociale, non più sulla ricchezza, ma sulla libertà. Così siamo ridotti. Nel frattempo, lo smart working sta diminuendo, e questo è il vero grande e importante segnale, perché Google, dopo Microsoft, mi sembra che lo dica il, non mi ricordo quale giornale, ha deciso che da settembre si ritorna a lavorare, o meglio, si ritorna a lavorare almeno tre volte alla settimana. Ma questo è anche il paese in cui il comandante dei vigili urbani di Arezzo, che si chiama Popollini, come si chiama Popollini, non so come diavolo si chiama Popo, vedo come si chiama, ha detto che farà le verifiche per vedere quanta roba d'asporto comprate nei ristoranti, e se ne prendete troppi quel lì è un segnale del fatto che voi siete assembrati. In un paese normale Popollini viene messo, come possiamo dire, viene allontanato dal suo ruolo e gli si dice bello, già ci sono i sindaci sceriffi, come si chiama quell'altro, il cazzone là, i sindaci sceriffi, come quello dei Forti dei Marmi, per intendersi, ma non è solo, ce ne sono migliaia in giro per l'Italia che si sentano rocchi balboa. Poi ci si mettono i vigili urbani che sembrano Vito Catozzo, che vanno a controllare con la panza quanta roba hai portato via dall'asporto, e poi ci metti i delatori che cercano di contare. Questo è il mondo in cui vogliamo vivere, in realtà questo è un mondo in cui in realtà a me fa orrore, un orrore che spero qualcuno di voi condivida, però oggi dice Gramellini che si occupa di Popollini che questa in realtà ha degli svolti comici, questa vicenda per me ha degli svolti tragici, ma ognuno la vede come gli pare, ovviamente. Due interviste che vi segnalo intanto... No, ma l'altra cosa molto interessante sul Toscano e sulla Toscana che Mugnai, Mugnai, che è un parlamentare di Forza Italia, c'è qualcuno di Forza Italia che ancora fa un'idea liberale di Forza Italia, poi ne parleremo dell'altro, del resto di Forza Italia, è un parlamentare toscano, riesce a scoprire che in quello che diceva il domani, che non vaccinano gli ultraottantenni, ma riescono a vaccinare i giardinieri delle ASL, perché siccome sono operatori sanitari, nel senso che lavorano nelle ASL, vengono vaccinati, denuncia di... come si chiama... di Mugnai. Intanto, due interviste, Salvini, che dice Speranza, vede solo rosso davanti a sé, lo scrive a Corriere della Sera, ogni volta che gli è fatto le aperture, rosso, 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 lui che gliene fotte. Lameloni dice, sull'intervista al Tempo, Draghi sbaglia come conte, c'è l'opposizione un po' all'interno del governo, un po' all'esterno, quindi c'è un Salvini che sul Libero e sul Corriere della Sera dice apriamo e comunque con Draghi si può ragionare e su Draghi ha perole diciamo di grande stima e infine l'ultima intervista diciamo politica è quella di Patuanelli che dice sostanzialmente con Conte abbiamo fatto un passo avanti, insomma riusciremo a fare un grande rassemblement della sinistra con Movimento 5 Stelle come spiega oggi Vescoa sul Quadriere nazionale e PD e Movimento 5 Stelle sono poi figli della stessa anima nella prospettiva futura complimenti a quelli che volevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno che sono diventati una come stiamo dicendo una componente del Partito Democratico fantastica prima è fatta da ex democristiani ex comunisti ex grillini e pensate un po' voi tutti quanti insieme ci mettiamo anche speranza la ciliegina e poi ci andiamo a vivere a Miami nel frattempo voi dite che c'è una grande opposizione di destra che si occupa di questioni liberali no Brunetta e Carfagna si sono messe insieme tutti e due uno e l'altro la grande opposizione di destra e che cosa ha deciso prima aumenti agli stradali e poi dopo gli aumenti di destra di 107 euro ma ovviamente questo derivava dai precedenti impegni del governo e quindi loro non hanno speso neanche una lira in più perché l'ha già previsto che ci fossero gli aumenti degli stradali cosa hanno pensato cosa pensa un liberale governo come ci distinguiamo rispetto agli statalisti del passato cosa facciamo per dare un senso a quel milie che votava Forza Italia assumiamo 2800 dipendenti pubblici a tempo determinato nelle regioni del sud complimenti devo dire la verità che questa è la grandissima segno distintivo di Forza Italia che cosa fa Forza Italia aumento di stipendi assunzione di 2800 nuovi precari al sud anche perché questi contratti a tempo determinato come ben sapete stile navigator sono a tempo determinato fino a che qualche parlamentare si assumerà il coraggio qualche governo nessuno di dire ragazzi è finito il contratto non lo faranno mai comunque sia il concetto che Forza Italia si distingue per 2800 assunzioni al sud probabilmente la Carfagna finalmente riuscirà ad avere qualche voto ma non lo so perché in realtà poi si arrabbiano ovviamente veneti e piemontesi che stanno a fan casino perché dicono guardate toc toc da noi pure c'è qualche posto di lavoro che servirebbe riempire però ovviamente Brunetta parla e dice delle cose sacrosante io non le discuto per carità se no inizia a insultarci a tutti quanti perché la cattivaria di Brunetta è nota perché Brunetta dice non è vero perché dicono le statistiche che al sud ci sono meno dipendenti pubblici locali rispetto al nord siamo sicurissimi di questo al sud c'è un deficit dipendenti pubblici questo ce l'ha spiegato Brunetta non voglio minimamente entrare nel merito di queste vicende perché so che la cosa grande e importante sarà che ci sarà una nuova legge che farà altro debito pubblico tutti d'accordo altri 30 miliardi in questi 30 miliardi in realtà come fa vedere Italia oggi ci sarà anche un'altra norma molto liberale che sono convinto che Forza Italia combatterà fino alla morte per approvarla cioè il blocco degli sfratti un'altra volta blocco degli sfratti cioè se tu sei stato sfrattato 5 anni fa il proprietario di casa è stato sfrattato 5 anni fa io voglio vedere Brunetta e Carfagna che dicono va bene anche quest'altra volta che vengano bloccati probabilmente c'è qualcuno a sud che gli spiegherà qualcuno dei 2800 che loro hanno assunti che è giusto ecco il punto siamo a posto straordinario nel frattempo l'unico titolo serio oggi di quello che sta avvenendo lo fa Repubblica Italia più povera lo dice l'Istat lo dicono moltissimi altri dati per esempio questa Pasqua spenderemo il 40% in meno rispetto al 2020 siccome i nostri risparmi purtroppo stanno aumentando in banca se tu risparmi e non spendi i soldi i nostri parlamentari i nostri Brunetta e Carfagna che assumono 2800 nuovi dipendenti chi li paga questi qua li pagano la Carfagna e Brunetta questi nuovi dipendenti pubblici i 107 euro di aumento mensile di dipendenti pubblici chi li paga se qua si consuma di meno la gente più povera e c'è sempre molta più gente che addirittura c'è dei problemi per mangiare perché voglio dire no facciamo più deficit blocchiamo gli sfratti e assumiamo più dipendenti pubblici un grande progetto liberale per questo paese nel frattempo se ti becco che ti vedi con un amico io ti denuncio attraverso una delazione perfetto voglio dire vedete io non sono contrario al governo Draghi sia chiaro io penso che il governo Draghi sia centomila volte meglio di quello Conte però bisogna cercare di entrare in questi governi cercando di dire qualche cosa cercando di far valere i propri principi liberali perché se no se tu devi soltanto stare al governo per avere la segretaria della macchina blu francamente era meglio che te ne rimanevi a casa tua cioè in Parlamento sempre stipendiato da noi dipendenti della minchia allora degli accini vi ho portato ultime due cose la cosa più grave è questa cosa dei traffici che inguaiano l'ONG Rosa vi ricordate l'ONG di Casarini che viene pizzicata a prendere soldi lui in intercettazione che dice champagne se arrivano questi soldi e c'è un piccolo problema che nelle inchieste vengono intercettati anche i giornalisti tra cui il nostro Biloslavo dico del giornale che ne parla in prima pagina del giornale ma anche Nello Scavo che è un altro bravissimo giornalista che si occupa dei flussi migratori per l'avvenire tant'è che l'avvenire ci fa il titolo di mezza pagina e dice che oltre a Nello Scavo è stata intercettata una ragazza una giornalista scusatemi mentre parlava col suo avvocato allora in questo mondo in cui se c'è un Trojan su Palamara la guardia di finanza non lo spegne mai tranne che quando parla col procuratore Pignatone mentre invece se c'è un'intercettazione su Casarini tutti i giornalisti vengono intercettati financo quando parlano i loro avvocati beh insomma questo è il paese non solo dei socialisti degli satellisti ma in cui con la giustizia i conti non si faranno mai infine vi segnalo una bellissima intervista e anche il suo bellissimo libro ad Aurelio Picca proprio perché bello non è finito neanche nella cinquina nella dozzina nella sporca dozzina del premio strega intervistato da Maurizio Caverzan il più grande criminale di Roma mi sembra che si chiami io l'ho letto e mi sono divertito come un pazzo Picca è un personaggio favoloso ovviamente proprio perché favoloso e contro tutte le convenzioni quei sinistrini non sono stati in grado di considerarlo neanche elegibile per una finale del premio strega bene direi che per oggi è tutto vi do appuntamento e vi dico anche soprattutto a domani come sempre ci siamo e anche una Santa Pasqua a tutti voi che ci avete seguito ciao